Dall'economia vicentina arriva qualche timido segnale di ripresa e le aziende vicentine dimostrano il loro consueto dinamismo investendo nel proprio futuro. Lo dimostrano i dati relativi alla richiesta di credito da parte delle imprese che pronte ad investire ricorrono gli strumenti e i servizi messi a disposizione dalle strutture per il credito. Ecco l'analisi di Samuele Sorato, direttore generale della Banca Popolare di Vicenza. L'economia vicentina anche i primi mesi 2009 sono dati comunque ampiamente noti, ampiamente diffusi, vede ancora una contrazione, una contrazione dell'attività produttiva, una contrazione quindi della produzione industriale, del fatturato e soprattutto degli investimenti e una continua riduzione anche in materia di esportazioni. Tutto questo porta inevitabilmente anche a delle ripercussioni sotto un profilo occupazionale, nonostante però si intravede verso settembre-ottobre, le stime sono queste, una stabilizzazione ancora del ciclo produttivo e riteniamo che per quella data con un leggero ottimismo o con un moderato ottimismo si possa intravedere dei segnali di ripresa. Ecco la banca di fronte a tutto questo come si pone? La banca come sempre interviene ancora a sostegno delle piccole e medie aziende che sono quelle che risentono di più di questa crisi perché si sono fatte trovare impreparate soprattutto sotto un profilo strutturale rispetto alle imprese di più grandi dimensioni. La nostra banca continua a erogare credito e quindi stiamo crescendo molto sugli impieghi soprattutto alle piccole e medie aziende però il credito non è sufficiente, le aziende si devono strutturare. Laddove sia necessario la nostra banca interviene anche con degli investi capitale e quindi con la nostra merchant nell'equity delle aziende e soprattutto con un'attività anche di consulenza, consulenza finanziaria fatta direttamente alla banca ma anche da società di consulenza esterna. E noi finanziamo questa società di consulenza. Noi siamo fiduciosi come abbiamo detto altre volte per quanto riguarda il tessuto produttivo vicentino, gli imprenditori vicentini e intravediamo che più di qualcuno si sta rimboccando le maniche, sta investendo nella propria azienda, sta patrimonializzando la propria azienda. Per fare questo però bisogna di un po' di respiro, un po' di ossigeno e noi ulteriori ossigeno vogliamo dare sospendendogli le rate dei propri finanziamenti, dei propri mutui. Per 12 mesi quell'imprenditore che investe nella propria azienda, che ha una situazione di difficoltà, si vedrà sospesa la rate del proprio mutuo, del proprio finanziamento per quanto riguarda la quota capitale. Le ripercussioni che l'azienda ha portato per quanto riguarda i livelli occupazionali ovviamente danno la possibilità alla banca, l'opportunità alla banca di aiutare anche queste famiglie. Di conseguenza per i privati prevediamo la sospensione delle rate di mutuo per 18 mesi, sia per quanto riguarda la quota capitale che per quanto riguarda la quota interessi. Grazie.